Qualsiasi curiosità, qualsiasi problema tu abbia, prendi come riferimento Giambattista Baronchelli e così ho fatto. Un giorno a un giro d'Italia mi ricordo che Giambattista guardandomi mi fa, mi stai facendo troppe domande, mi sembri veramente un commissario di polizia che mi sta interrogando. Da quel giorno non sono diventato commissario solo per lui, ma anche per tutto il gruppo.